benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi e ragazze siamo a 50 faccio soldati, soldatesse, scipida, press, log e parto video benvenuti in questo nuovissimo video quanti ne siamo, quanti ne siamo, quanti ne siamo allora oggi sembra una barzelletta però perché appena inizio il video si tira il discarico secondo me qualcuno mi sta sfottendo secondo me si è una merculata proprio forte, 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 forte dicevo benvenuti in questo nuovissimo video e oggi è un video per ringraziarvi tutti quanti voi quindi per prima cosa devo dire grazie a tutti quanti voi anche se avete superato i 50 già siete verso i 60 però io prendo il punto vado dai 50 ai 50 perché mi piace andare i 50 ai 50 e quindi scusate la voce nasale ma c'è il naso è durato io ringrazierò questi 50 quindi 50 grazie 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 40 grazie 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 50 5 forse grazie di cuore io pensavo di non arrivare manco a 20 comunque iniziamo subito ho pensato di fare per conoscerci anche un po' meglio 50 per 50 iscritti 50 domande era il tag delle 100 domande fischio quella cosa qua morendo, 50 morte allora dicevo, era il tag delle 100 domande ma ovviamente vi faccio come è che adesso mi dare e ho tagliato 50 domande quindi farò il tag delle 50 domande per i miei 50 iscritti come se me l'aveste fatte voi allora, iniziamo subito nome, Luca il mio vero nome è Luca soprannome, Wargale numero di candelire sullo... 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 numero di candelire sull'ultima torta di compleanno cioè quanti anni oriole... 23... data in cui spegni quelle candeline ah, 23 agosto no, perché sono domande stupide cioè data di nascita e... quanti anni hai, no? non ti piace? ok, vabbè segni particolari tecocchist cose cose particolari 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 luogo di nascita Napoli altezza bastezza? no, un metro è niente un metro e tantavaglio di dividere di crescere e di giocare colore degli occhi cacca, credo cacca colore dei capelli cacca cacca chiara numero di scarpe 40 per tutti i feticisti per tutti i feticisti mandatemi una 40 occhiali? no lentine cioè che cazzo di davanti sono? eye piercing? no tatuaggi? no 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 hai mai come i fetici? ma magari ti sei mai ubriacato? io direi sei mai stato sobrio? ti sei mai innamorato? sì tantissime volte mi sono innamorato hai già amato qualcuno al punto di piangere? hai la voglia che Alessandro Amoroso ciao ha mai avuto un incidente in macchina? sì ma lasciamo perdere ha mai avuto incidente in moto? no ma lasciamo perdere comunque coca cola o pepsi? entrambe basta che sia pepsi coca cola pure la coca della monad insomma basta che sia quella lemon soda o orange soda? basta che sia soda caffè normale o macchiato? che macchiato dipende da cosa? caffè zuccherato? ma che sto urlando? sto urlando? caffè normale o di canna? mamma mia sto le canna coperto o piumone? piumone lasciare o essere lasciati lasciare o essere lasciati? lasciare o essere lasciati? lasciare lasciamo verde proprio Colore dei calzini Io li prendo a caso Cioè che significa colore dei calzini Ah ma adesso Eh vabbò raga Adesso multicolor Numero favorito 23 Film preferito Frozen Citazione Vale la pena sogliersi per qualcuno Computer o playstation Playstation O computer Beh uguale Stesso Vabbè tutti e due Se dove decidere Vabbè uguale Giorni della settimana Ma di oggi Cioè che domande sono Domenica scusami Giorni della settimana Domenica Ma che mi piace sabato Non lo so Canzone preferita attuale Sensualidad Di Maluma Tutta quell'altra gente Che ci ha presto Ma forse non è il bacco di Maluma Sensualidad Di Jebbalme Scusatemi Che Che cazza mezza Canzone preferita Eh Ciao Programma televisivo No Preferito Non preferito Schifoso Jeff 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 Telefilm Preferito Once upon a time Cartone preferito Frozen Non è un cartone Hai mai nuotato Nudo No Cocktail preferito Long Island O basta che sia Quei alcol Sogno Sondesto Sei scioccato Adesso Sport praticati Io non sto guardando Però non ho avuto Vabbè Facciamo prima Sport praticati Palestra Se si può dire Uno sport Sport preferiti Cioè Gym Sport preferiti Da vedere Dal vivo Dal vivo Calcio Da sport Da vedere Alla tv Tennis Se invece mi piace Di più vedere Il tennis Anche il calcio Però Ma calcio Tennis Il calcio Tennis Ecco Pasta o pizza Perché scegliere Pasta sulla pizza Come ti vedi da qui A 10 anni Con 10 anni in più Quindi 33 Cosa fai Quando ti senti giù Quando mi sento giù Mi rialzo Parolacce Che dici più spesso Cavalo 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 Frase che dici più spesso Sto scioccato Abbiamo finito Il tag Dei domande Spero che ci siamo Conosciuti meglio Spero che vi sia piaciuto O che non vi sia piaciuto E noi ci vediamo Al prossimo video Grazie ancora di essere 50 Appena arriveremo a 100 Poi Se arriveremo a 100 Non decidete voi Cosa fare Tanto voi Cioè siete 100 Almeno uno prenderà Una decisione Che cazzo Quindi noi ci vediamo Al prossimo video E mi raccomando Spero che il video Anche in spagnolo Vi sia piaciuto E Bright life Comunque si raga Se avete Ho caricato Tantissimi video In settimana Perché ho tantissime cose Da farvi vedere Gli extra di mercoledì I video spagnoli E tantissime altre rubriche Che arriveranno Che ci sono anche In programma Tantissimi Mi sto strozzando Con quello Con la freddora Quindi ragazzi Io ho tantissime idee E che vi abbofferò La wallera Noi ci vediamo Ma sto morendo Sto morendo Ma lo sto spento Ma lo sto a posto Ma come va Ma lo sto a posto